In studio Marco Scavini. Bentrovati, nuova edizione del nostro telegiornale. Come anticipate in prima pagina in apertura, torniamo a parlare della scuola. La riapertura non convince i genitori, i dati parlano chiaro. Sette genitori su dieci si dicono non pronti al reale avvio delle lezioni. Intanto gli asili nido a Ragusa aprono il 16 settembre. Gli asili nido comunali a Ragusa apriranno il 16 settembre prossimo. È questa la novità in merito all'apertura delle scuole comunicata dall'assessore alla pubblica istruzione del comune di Ragusa, Giovanni Iacono. L'assessore, accompagnato dal dirigente del settimo settore, Salvatore Guadagnino, dal funzionario amministrativo e da quello tecnico responsabili degli asili nido, ha effettuato nei giorni scorsi, in vista della ripresa delle attività, dei sopralluoghi nelle strutture comunali per verificare che siano state predisposte le misure previste dalle linee guida per il contrasto all'epidemia da Covid-19. L'assessore Iacono comunica inoltre che il personale che opera negli asili nido su base volontaria si sta sottoponendo al test sierologico e sarà dotato dei dispositivi di protezione individuale, programmati inoltre, prima dell'apertura, tutti gli interventi di sanificazione. Per quanto riguarda il giorno in cui gli alunni di ogni ordine e grado torneranno fra i banchi, non si ha ancora una data per tutti a Ragusa, come ha comunicato il sindaco Cassì. Al momento l'orientamento sembra quello di un inizio con data al 24 settembre anche negli istituti non sede di votazioni, una scelta dettata dalla necessità di completare le operazioni di adeguamento. Tuttavia Cassì aveva specificato che saranno i consigli d'istituto convocati nei prossimi giorni a confermare il giorno d'apertura. E mentre procedono i test al personale scolastico che si sta sottoponendo su base volontaria, la Lombardia è tra le regioni italiane a far parlare di sé, perché su circa 57.000 insegnanti e operatori scolastici che si sono sottoposti al test, di questi 2.723 sono risultati positivi e si sono sottoposti al tampone. A renderlo noto la regione Lombardia, come riporta Lanza, che sottolinea anche come un'indagine condotta da Ipsos abbia portato in luce i timori dei genitori per il rientro a scuola dei figli. Il rientro infatti preoccupa 7 genitori su 10 e timori e insicurezze aggravano la condizione delle famiglie più fragili, come evidenzia Save the Children sulla base dei risultati dell'indagine, che lancia un allarme. Tanti genitori che non manderanno alla scuola dell'infanzia i propri figli perché temono di non potersi permettere i costi di mantenimento nel caso in cui si ammali. Il figlio è un genitore su 10, crede di non potersi permettere l'acquisto dei libri. Due su 10 temono di non poter più sostenere il costo della mensa scolastica. La principale ansia è data dall'incertezza sulle modalità di ripresa, il 60%, seguita dai rischi legati al mancato distanziamento fisico, come riporta il 51%. Di certo ad acuire le paure dei genitori le notizie che circolano relativi al primo caso di Covid tra gli studenti di una scuola di Roma. L'ASL, uno della capitale, ha messo in isolamento domiciliare 60 persone, per questo caso tra cui compagni di classe e insegnanti. Gli studenti seguiranno le lezioni con la didattica a distanza e mentre a Como, date le incertezze su trasporti, le scuole superiori hanno deciso di alternare didattica a distanza in presenza per le classi, anche oltre confini arrivano notizie poco confortanti. In Francia, infatti, dopo soli tre giorni di scuola, sono 22 gli istituti e un centinaio delle classi che hanno sospeso le lezioni in presenza a causa di casi di Covid. Problematiche sulla riorganizzazione scolastica anche in riferimento al personale. Ammonta quasi 5 milioni di euro la somma destinata alla provincia di Ragusa per coprire l'organico Covid, una delle voci inserite nel decreto agosto, definito personale Covid perché sarà utilizzata esclusivamente in casi legati al mantenimento delle misure di sicurezza. La ripartizione tra le varie province siciliane della tranche relativa al budget assegnato per l'anno scolastico in corso è stata comunicata al termine dell'incontro che si è svolto ieri all'ufficio scolastico regionale della Sicilia tra le organizzazioni sindacali e il direttore generale Stefano Suraniti. Si tratta di un'informativa sulla seconda tranche dell'organico Covid che ammonta complessivamente a circa 76 milioni di euro che saranno trasformati in posti per il personale Covid. A renderlo noto la FLCCGL che fornisce indicazioni sulle somme destinate alle province. Come sottolinea il sindacato, molti dirigenti lamentano il fatto che non sono state assecondate tutte le richieste di personale mentre dall'ufficio scolastico regionale risulta che ci siano 5 milioni di risorse. Difficile verificare questa disparità, dice il sindacato, in quanto non si è in grado di conoscere la reale esigenza delle scuole perché il Ministero dell'Istruzione e l'ufficio scolastico regionale della Sicilia si sono rifiutati di fornire gli esiti di tutti i monitoraggi che sono stati inviati ai dirigenti scolastici e dai quali si può evincere il reale fabbisogno delle scuole, ha detto Adriano Rizza. Ma tra i vari problemi che si devono affrontare per questo rientra scuola caratterizzato da nuove regole e misure anti-Covid ci sono anche problemi ben noti che si ripropongono ogni anno, come la carenza ad organico. In Sicilia ci sono segreterie senza direttori amministrativi e oberati di pratiche. La denuncia arriva dai sindacati della scuola che descrivono un quadro preoccupante in cui tante scuole siciliane al momento si trovano senza direttore amministrativo e oberate da una notevole mole di pratiche. L'ufficio scolastico regionale e gli ambiti territoriali provinciali, anche loro a corto di personale, hanno reclutato temporaneamente circa 120 direttori amministrativi dalle segreterie, scaricando allo stesso tempo la valutazione di 70.000 domande delle graduatorie provinciali per le supplenze. Lo dichiarano in una nota congiunte segretari generali delle organizzazioni sindacali regionali Adriano Rizza di FLCCGL, Francesca Bellia di CISL Scuola, Claudio Parasporo di Will Scuola, Michele Romeo di SNALS Comsal e Loredana Lorè di FGU Gilda Unams. Il fatto di aver racquintuplicato il numero dei posti inderogata nella nostra regione da 500 a 2.500, spiegano i sindacati, non è stato risolutivo del problema perché questo organico, a causa dell'emergenza sanitaria, è stato assegnato prevalentemente al profilo di collaboratore scolastico. I sindacati, inoltre, nella nota rimarcano il comportamento inaccettabile, così come scrivono, di molti uffici scolastici che hanno affidato alle scuole l'onere del controllo delle domande per l'inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze. E le stesse scuole, adesso, sottolineano i sindacati, avranno il compito di esaminare, nel giro di 48 ore, migliaia di stanze di reclamo. Un paradosso, se si pensa che le graduatorie provinciali, che avrebbero dovuto sgravare le scuole da un onere insopportabile, che ogni anno, tra rinnovi e aggiornamenti, paralizzava per mesi l'attività delle segreterie, si stanno trasformando nell'ennesima molestia da addossare alle scuole stesse. Parliamo adesso di migrazione e dell'organizzazione posta in essere a Lampedusa. Trasferimento di circa 800 migranti, dei quali 20 positivi al Covid-19, dall'hotspot di Lampedusa sulla nave quarantena Rhapsody. La notizia è stata diffusa in mattinata da Lanza, a permetterne l'imbarco sulla nave quarantena Errada, perché un forte vento ne ha impedito l'ingresso in porto, un peschereccio utilizzato come piattaforma. Per tamponare l'esigenza trasferimenti, dal momento che l'hotspot è sovraffollato, si è trovata una soluzione alternativa all'attracco della nave. Dopo ripetute prove con le moto vedette, per un problema di differenza di altezza, è stata esclusa la possibilità di procedere al trasferimento con i mezzi della Guardia Costiera. Con il contributo del sindaco Totò Martello e dei pescatori, riporta la nota ANSA, è stato individuato il peschereccio più alto della flotta di Lampedusa, che ha notevolmente ridotto la differenza d'altezza con la Rhapsody. Tra ieri sera e questa mattina sono state fatte più prove di affiancamento tra la nave quarantena, il peschereccio e le vedette della Guardia Costiera. Con le moto vedette si sta effettuando la spola tra il porto e il peschereccio, che viene utilizzato come piattaforma per il passaggio sulla nave quarantena Rhapsody. La Rhapsody è stata assegnata a Porto Empedocle. Fra Hotspot e Casa della Fratellanza, a Lampedusa rimangono circa 500 migranti. Ieri il presidente della regione, nello Musumeci, aveva ribadito in un post su Facebook la necessità di un'azione del governo per il centro d'accoglienza di Lampedusa, così come concordato durante il vertice a Roma. A Pozzallo la situazione rimane stabile. 122 attualmente i migranti ospiti all'Hotspot. Tra ieri e oggi è effettuato il trasferimento di 19 persone, una delle quali stato di gravidanza, nelle comunità d'accoglienza in Sicilia e nel resto d'Italia. Due immigrati positivi al coronavirus sono stati trasferiti ieri nei centri Covid. Il Covid in primo piano con un'intervista rilasciata a noi dal dottore Davide. Situazione stazionaria all'ospedale Maria Paternò a Arezzo di Ragusa, dove sono sei le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive e una sola persona in terapia intensiva. La situazione epidemiologica è in provincia, sono pochi casi, quindi non vorrei creare ulteriore allarmismo, perché effettivamente c'è da spendere un minuto su questo. Sicuramente abbiamo un numero di contagiati discreto, parlo in Italia, addirittura gli ultimi dati parlano di 1700 e qualcosa. Quello che dobbiamo prendere come valore effettivo, come indicatore, è il numero di ricoverati effettivi nelle malattie infettive, nelle pneumologie, e il numero di ricoverati nella terapia intensiva. Questi sono numeri ancora molto ridotti. Abbiamo molti asintomatici, sicuramente gli asintomatici sono il grosso problema da qui ai prossimi mesi. Abbiamo soltanto la speranza di un vaccino. Approfitto sempre della vostra emettente per lanciare un messaggio forte, dico forte, per sottolineare l'importanza del distanziamento e dell'uso di queste benedette mascherine, oltre che il lavaggio delle mani. Spesso gli asintomatici sono pazienti, appunto in quanto asintomatici non hanno nessun sintomo, che voglio ricordare può essere la congiuntivite, la febbricola, il mal di testa, la riduzione del senso dell'offerto, del gusto, i primi sintomi, o neanche questi. E' stato sorpreso a Comiso mentre frugava nell'auto di un poliziotto che in quel momento era libero dal servizio. E' stato arrestato. Si era giustificato dicendo che la macchina era sua quando il proprietario dell'auto, vedendolo frugare nel suo mezzo, gli ha chiesto spiegazioni. L'episodio è successo ieri pomeriggio a Comiso quando un agente di polizia di Stato del locale commissariato, finito il proprio turno, intorno all'una e mezza, si è accorto di una persona che frugava nella sua auto. L'agente, così come riporta la questura di Ragusa, ha raccontato di aver lasciato il proprio veicolo in sosta, non chiusa a chiave, a pochi metri dall'ingresso di un esercizio commerciale e di aver notato, poco dopo, dall'interno del negozio, una persona dentro l'abitalcolo intenta rovistare. L'agente ha così bloccato immediatamente l'uomo, un tunisino di 19 anni, che nel frattempo aveva già afferrato lo zaino contenente un tablet e altri effetti personali e stava per allontanarsi. Successivamente, dopo aver chiesto l'ausilio della volante, il malfattore è stato condotto agli uffici di polizia per gli adepimenti di rito. Ed è proprio lì che, poco dopo, un altro cittadino si è recato per denunciare di un furto subito intorno alle 12.30 avvenuto con le stesse modalità del furto subito dall'agente. A supporto della denuncia, la vittima ha consegnato le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza della zona che hanno immortalato le fasi salienti del furto incastrando il 19enne come autore anche di questo furto. Posto dinnanzi all'evidenza dei fatti, il 19enne ha confessato di essere l'autore anche di questo furto collaborando con gli agenti, fornendo delle informazioni utili a rinvenire la refurtiva sottratta alla vittima, alla quale è stata successivamente riconsegnata. Alla luce dell'evidenza, il soggetto è regolare sul territorio nazionale ma senza precedenti di polizia, è stato arrestato per furto. In terda mattinata, al Tribunale di Ragusa, si è svolta l'udienza di convalida. Il giudice ha convalidato l'arresto ma ha ordinato la scarcerazione. Il tunisino è stato rimesso in libertà in attesa del processo. Non è la prima volta che di recente a Comiso si verificano episodi di microcriminalità. Quest'ultimi accaduti perfino in pieno giorno tra le 12 e le 13.30. A denunciarlo qualche giorno fa il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, che aveva chiesto e ottenuto una task force con le forze dell'ordine per incrementare la sicurezza nel comune casmeneo. Ancora la cronaca in primo piano ma ci spostiamo. Raggiungiamo il versante Etneo dove è stato arrestato e posto ai domiciliari la persona indagata per l'omicidio di Carmelo Destro, il 73enne di Vizzini. Infatti è stato sorpreso in auto, era evaso dagli arresti domiciliari. Ha detto ai militari di essersi dovuto allontanare perché doveva aiutare la figlia a spostare un vitellino in un altro terreno di loro proprietà. Ancora la cronaca in primo piano però con un'operazione antidroga dei carabinieri di AC Castello che hanno sorpreso un pusher. Si tratta di un 22enne del posto, è stato sorpreso in piazza Micali ma poi è stata eseguita perquisizione domiciliare dove sono state rinvenute 28 dosi, droga che aveva occultato in camera da letto, in cucina e oltre a 2.000 euro in contanti presumibilmente incassati a seguito della vendita della sostanza stupefacente. Cambio di guardia al comando provinciale dei carabinieri di Catania. Dopo tre anni lascia il colonnello Covetti. Dopo tre anni il comandante provinciale dei carabinieri di Catania, il colonnello Raffaele Covetti lascia il comando per andare a guidare la legione Basilicata e a gennaio diventerà generale. Questa mattina l'incontro con la stampa nel corso del quale Covetti ha tracciato il bilancio della sua attività. Tra le operazioni più importanti ricordiamo quella antidroga contro il clan Brunetto che ha portato all'arresto di 46 persone. Al posto di Covetti si insedierà la prossima settimana il colonnello Rino Coppola proveniente dal ROS centrale di Roma. Tre anni di intenso lavoro ha detto Covetti contro la criminalità organizzata. Abbiamo operato in tutti i settori, oltre 5.000 arresti durante i miei tre anni e in tutti i settori. Ovviamente dal contrasto alla capacità organizzata, alle piazze di spaccio, abbiamo scoperto tutti gli omicidi che sono stati commessi, anzi siamo riusciti a venire a capo tanti episodi avventi che è accaduto anche negli anni, anche nei scorsi decenni. Abbiamo debelato il fenomeno dei furti di Bancomat, così come abbiamo dato una grossa mano ai contadini nelle campagne, anche nel settore della violenza del genere. Siamo operati, abbiamo operato in tutto, in tutti i vari scenari. Ovviamente io sono estremamente orgoglioso di quello che abbiamo fatto quotidianamente per i cittadini catanesi, soprattutto nel periodo dell'emergenza che ancora stiamo attraversando. Lascio ovviamente adesso una città bellissima che purtroppo, devo dire, non è amata come dovrebbe essere amata dai propri cittadini, ma questa è una caratteristica di noi meridionali, che non sappiamo cogliere profondamente la bellezza di ciò che ci circonda. Restiamo a Catania, ma andiamo in via Fondo Romeo perché le telecamere di videosorveglianza hanno sorpreso delle persone a sporcare. È caduto nella rete delle telecamere installate in via Fondo Romeo e via Calliope a Catania il primo incivile ripreso mentre depositava materassi nella discarica abusiva. Grazie al video visionato direttamente dalla centrale operativa dei vigili urbani si è riusciti a stanare il primo dei tanti malfattori che sversano abusivamente rifiuti di ogni tipo in quell'area creando grave disagio ai residenti della zona. La polizia ambientale è prontamente dunque risalita al soggetto ripreso che da un furgone sversava il materiale sulla strada e gli ha combinato una multa di 600 euro. L'iniziativa che ha immediatamente prodotto risultati positivi rientra in un piano di sperimentazione promosso nello scorso mese di giugno dal sindaco Salvo Pogliese e dell'assessore Fabio Cantarella e la sollecitazione dei consiglieri comunali Petralia Giusti e Dario Grasso di monitorare le discariche abusive che vengono illecitamente alimentate a cominciare proprio da quella di via Fondo Romeo e via Calliope divenuta simbolo delle tante discariche abusive. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore Fabio Cantarella il sistema delle telecamere sempre che non vengano anch'esse vandalizzate si può rivelare un deterrente eccellente e per questo ne abbiamo installato altre in aree abitualmente utilizzate da soggetti che compiono traffici di rifiuti un'azione che può avere gravi conseguenze anche penali ha detto tra qualche settimana, aggiunge Cantarella faremo un resoconto dei risultati di questa attività di repressione e prevenzione e faremo le opportune valutazioni per estendere il controllo video in tutte le 151 discariche che abbiamo censito per individuare e colpire gli autori degli atti illeciti, attenuando una pratica incivile purtroppo molto diffusa che ha pesantissimi costi per la collettività ha concluso l'assessore Cantarella. Da lunedì 7 settembre l'autostrada Catania-Siracusa sarà oggetto di rifacimento della pavimentazione lungo la carreggiata in direzione Siracusa dal chilometro 15 al chilometro 20 per consentire l'esecuzione dei lavori saranno chiuse alternativamente le corsie di emergenza e marcia o di sorpasso limitatamente ai tratti di volta in volta interessati al cantiere. Ancora le infrastrutture in primo piano con la polemica del Ponte sullo Stretto. Dovrebbe unire ma divide sempre di più il Ponte sullo Stretto e le ultime notizie che giungono non rassicurano sulla sinergia delle forze politiche. Intanto dal governo regionale arriva una nuova nota da parte dell'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone che interviene sull'istituzione della nuova commissione. Le ultime notizie che giungono dal governo di Roma riguardo il Ponte sullo Stretto ci lasciano quantomeno perplessi al netto delle ironie circolate sui social network riguardo le dichiarazioni del ministro Paola De Micheli quello che ci preoccupa è a prendere dalla stampa della creazione di un comitato che dovrebbe esaminare delle proposte sull'attraversamento stabile fra Sicilia e Calabria. Secondo quanto abbiamo letto, fra i 16 membri individuati dal governo non ci sarebbe alcun esperto di rappresentanza di Sicilia e Calabria. Una circostanza a cui ci auguriamo il ministro ponga celermente il rimedio dichiara Falcone che aggiunge preso atto di uno scenario che confidiamo non si risolva in una melina in sinergia con la collega assessore della regione Calabria Mimma Catalfamo entro fine mese insedieremo una commissione coinvolgendo le università, gli ordini professionali e i principali esperti in materia. intendiamo dimostrare che oggi, ancora più di ieri, il ponte sullo stretto è l'unica infrastruttura che può cambiare il futuro di tutto il Mezzogiorno ed Italia. Pubblicità tra poco Il Val di Noto, le città patrimonio dell'UNESCO hanno fatto registrare un boom di presenze turistiche fortunatamente, nonostante l'emergenza Covid-19 tutti soddisfatti dalle bellezze architettoniche, dal mare e dai servizi però quello che lede l'immagine del nostro territorio è la spazzatura per strada. Sentite. Hanno espresso piena soddisfazione e l'auspicio di ritornare i turisti quest'anno in Sicilia non sono mancati contrariamente alle previsioni, la stagione turistica che si è registrata nel Val di Noto è stata una stagione soddisfacente con boom di presenze in tutte le città del barocco siciliano ma anche le città delle coste e i blè hanno regalato un soggiorno indimenticabile a centinaia e centinaia di turisti tutti soddisfatti per il barocco, per il mare, per il buon cibo però non mancano le note negative, i rifiuti per le strade a raccontarci un'esperienza negativa una turista toscana. È bellissima però purtroppo ho notato che è veramente molto sporca ci sono i sacchetti e la spazzatura ovunque, in spiaggia, per strada, nei prati, ovunque peccato perché è una terra bellissima, accogliente mi sono trovata molto bene ma è molto 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 sporca. Cosa avete apprezzato di più? Mi ho apprezzato i paesaggi diversi rispetto ai nostri il mare è bellissimo, un barocco fantastico, cittadini tranquilli, vivibili a misura d'uomo bella zona. Cosa ne pensa della Sicilia? Molto bella, ci veniamo in vacanza d'estate. Bellissima, io ce l'ho già stato con mia moglie già anni fa e ci siamo ritornati perché è troppo bella. Cosa avete visto sinora? Siamo stati Siracusa, Noto, Modica e oggi Cicli. Cosa vi è piaciuto sino a questo momento? Tutto, il barocco siciliano è la fine del mondo. Ci piace tutto dalla Sicilia, tutto. In particolare una città preferita rispetto alle altre? Vabbè, conosciamo anche Palermo però la zona orientale ci piace tantissimo e per questo ci siamo tornate. Per non parlare poi del cibo. Cosa avete apprezzato particolarmente? Vabbè, oltre al pistacchio che è rinomatissimo però i dolci e anche gli altri piatti tipici siciliani. Tu che cosa hai apprezzato? La cioccolata, la cioccolata, gli arancini. Bellissima. Cosa hai visto sinora? Abbiamo visto Ragusa, Ragusa Ibla. Sumento Cicli perché per me è stata una piacevole sorpresa, non pensavo che fosse così bella, veramente così interessante, veramente bella. Sono quattro anni che vengo sempre a fare dei tour o delle vacanze al mare, alle oli. Io sono entusiasta della Sicilia. Vorrei in Australia e ho scritto su Montalbano. Stai realizzando un piccolo sogno quindi? Sì, una grande emozione. Cosa le è piaciuto sinora? L'architettura, il cibo, la gente, tutto, tutto sì. E a proposito di turismo e centro storico parliamo delle luci a led a Modica, la replica del sindaco Abate. La polemica è strumentale, le luci le stiamo sostituendo e stiamo correndo sui tempi. Risponde così il sindaco di Modica, Ignazio Abate, a seguito dell'incontro tenutosi in soprintendenza e promosso da alcuni cittadini in riferimento al caso delle luci a led. La polemica, nata un anno fa, coinvolge il centro storico di Modica che in questo momento si presenta con più colorazioni in riferimento alle luci notturne. Un turista, ma come anche un modicano, si accorge subito di discrepanza. Allora, qual è la verità su queste luci a led? Perché ne parliamo da un anno e siamo anche noi stanchi ormai di parlarne. Ma guardate, le luci a led, io penso che il fatto che se ne parla a Modica è stato credo sulla cronaca nazionale, anche perché non c'è una legge che dice come deve essere regolamentata la luminosità sui centri storici. E grazie a un accordo con la soprintendenza e con lo scorso dirigente, l'architetto Battaglia, si è arrivata a una conclusione, dopo tanti sopralluoghi, che la luce più adatta per la nostra città è quella a led da 2002. Mi perdoni Sindaco, parlare di numeri, di gradi Kelvin, purtroppo per la collettività è difficile a livello proprio di comprensione. Parliamo della storicità di Modica, parliamo delle luci di Modica. Il modicano è abituato a vedere quella luce rossa effetto presepe, sarà quella la luce? E allora la luce, quella che si vede in questo, l'80% del centro storico, quindi quella luce rossa che si vede nel centro storico, è già stata sostituita. Sindaco converrà con noi che però allo stato attuale non c'è armonia. Non è armonioso perché? Perché non essendoci una norma ben precisa che dà le indicazioni, negli anni, quando anche la sovrintendenza ha autorizzato nuovi impianti di illuminazione, quindi l'illuminazione della facciata del Palazzo degli Studi, l'illuminazione del Corso Umberto, l'illuminazione di tutta quella che è nel sole all'interno della città, è stata autorizzata con colori diversi, ma è con un colore omogeneo. E quindi all'interno del nostro centro storico troviamo impianti realizzati negli anni con una luminosità diversa, con impianti completamente diversi uno dall'altro. La tutela dell'ambiente adesso con 6 tonnellate di rete fantasma trovate nel Mediterraneo. 6 tonnellate di rete abbandonate rimosse dai fondali marini e avviate al corretto ITER per la distruzione. Il bilancio annuale dell'operazione Reti Fantasma che rientra nel progetto Plastic Free GC per il contrasto alla dispersione delle microplastiche in mare avviato a luglio 2019 a Fiumicino alla presenza del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, del comandante generale della Guardia Costiera Giovanni Pettorino. Un'operazione che ha visto l'impiego della componente subacquea della Guardia Costiera ha dislocato sul territorio nazionale mirata al recupero delle reti da pesca abbandonate nei fondali marini della nostra penisola. L'attività condotta dai nuclei subacquei della Guardia Costiera, ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ha portato alla rimozione dai fondali marini di 6 tonnellate di plastiche disperse in mare, pari a titolo esemplificativo a circa 200.000 bottiglie di plastiche in abbandono sui fondali marini. Un risultato importante, continua il ministro, se pensiamo che le reti fantasma sono responsabili dell'alterazione dell'ecosistema marino per la dispersione nell'ambiente delle microparticelle sintetiche delle quali sono composte. Reti che, se lasciate in mare, continuano a pescare in maniera passiva e rappresentano per le specie ittiche che vi rimangono intrappolate dei veri e propri muri della morte, che oltre a danneggiare l'habitat marino sono un concreto pericolo per la sicurezza di sub e bagnanti. L'attività operativa, partita il 9 luglio del 2019, si è sviluppata attraverso una fase preliminare di raccolta di informazioni attraverso tutti i comandi territoriali della Guardia Costiera e la collaborazione delle categorie professionali operanti sul mare e delle associazioni ambientaliste. È stata dunque effettuata una prima mappatura generale riportante la collocazione delle reti fantasma lungo le coste in continuo aggiornamento con le informazioni operative reperite sul territorio. L'operazione è ancora in corso, proseguirà nei prossimi mesi, si inserisce in un'ampia campagna comunicativa sul tema della sensibilità ambientale condotta dal Ministero dell'Ambiente e dal Comando Generale della Guardia Costiera. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci scelto, buon proseguimento. Grazie. Grazie. Grazie.